Partiamo da un presupposto, il sentimento dell'alibi e il sentimento del perdente, quindi chiariamo subito questo concetto e io penso di essere non solo nel calcio ma nella vita uno che ha sempre lottato e che non ha mai cercato alibi, però io vorrei dire una cosa, io ho allenato dappertutto, sono tanti anni che alleno, ho allenato al nord, ho allenato al centro, ho allenato al sud, però con l'onestà che mi contraddistingue, fosse accaduto quello che è accaduto a noi ultimamente, ripeto l'alibi e il sentimento più notevole del perdente e Taranto come città, Taranto come società, Taranto come tifoseria e come squadra detesta l'alibi. Pensate che io nella riunione tecnica post gara non ho fatto vedere alla squadra nel rigore e nel gol annullato, per non creare alibi, però consentitemi, la stampa Tarantina, la stampa di casa, quando possa essere una stampa di alta categoria e ne sono convinto, imparziale ne sono convinto, ma non menzionare quello che è accaduto a Latina mi lascia un altrimenti essere fatto. Cioè, leggere di un gol annullato millimetricamente, di non avere evidenziato quello che è accaduto a Latina, noi siamo andati a giocare una partita con estrema dignità, onore e merito a Latina che ci ha battuto, nulla contro il Latina, abbiamo avuto un giocatore ricoverato in ospedale il portiere, un altro giocatore con sette punti in testa e vituperato in maniera indegna e vergognosa per tutta la gara da chi dovrebbe educare il calciatore, essendo continuamente definiti di tutti i colori durante tutta la gara, ci può anche stare perché alberga nell'esercizio dell'educazione, non nell'esercizio calcistico, ma la stampa Tarantina che sono 5-6 partite dove, per l'amor di Dio, gli arbitri sono continuamente sfortunati nei nostri confronti, ma non mi permetto di cercare alibi, noi abbiamo perso perché abbiamo preso un gol che non andava preso. Questo è quello che io ho detto a questi splendidi ragazzi che con mille problemi, con limiti che può avere questa squadra, ma che lottano su ogni campo e non ci viene dato un gol al 94esimo tipo quello che è successo in Salernitana-Juventus, in Juventus-Salernitana. In quella partita si è parlato tutti i media a livello nazionale, noi non siamo né la Juve né la Salernitana, ma un orrore che viene poi menzionato dalle testate nazionali e addirittura nei top e flop degli arbitri che leggo in maniera vergognosa, incide sulla partita perché lì la partita era finita, e a Taranto una stampa che io stimo in maniera illimitata, io non dico di dare una mano, ma quantomeno menzionare quello che è accaduto, non mi fermo sotto l'aspetto vergognoso dove ognuno fa quello che ritiene più opportuno per portare il risultato a casa e io non vado a sindacare. Però il rigore non dato e va bene, ma non vedere Carissoni che tre metri davanti alla Monica e ne parla la stampa nazionale e la stampa tarantina non ne parla, io chiedo semplicemente nulla, ma che il Taranto è di tutti e che io in questo momento il piacere e l'onore di rappresentare a livello di gruppo e di squadra, quando meno se non ci tutelano gli altri, quando meno la mia città mi deve tutelare. A me come squadra chiedo scusa dell'intervento dicendo che non c'è nessun alibi nella maniera più assoluta, perché lo ripeto fino all'inverosilimile, l'allibi e il sentimento del perdente. La mia squadra può avere mille limiti, ma sono ragazzi che vanno in campo ed è uno spettacolo vederli per abnegazione, per applicazione e per lotta. Io non dico nulla, ma sono cinque partite che noi siamo sfortunati tutte e cinque partite e nessuno ha menzionato, leggo soltanto di un gol millimetrico e che la squadra ha creato poco, ma scusate si va a latina contro una grande squadra che nelle ultime partite ha subito zero e lasciamo perdere l'episodio del rigore, ci sono due palle gol clamorose di infantino, un gol regolarissimo annullato, la giocata di mazza, ma quante palle gol deve fare una squadra fuori cale? Fermo restando che quanto si perde non c'è nessunissimo alibi, però questo me lo dovevate consentire, vi chiedo scusa, non è assolutamente uno sfogo, ma è soltanto semplicemente un'affermazione, perché noi siamo Taranto, Taranto, città di 250 mila abitanti, chi ha fatto, ma anche 200 mila, ma anche 200, anche 180, ma è una città che ha fatto la storia del calcio nel passato e non può essere bistrattata in questo modo. Grazie e scusatemi.